Non c'è stato ancora alcun contatto tra Walid, Kedira e il Pescara. Dalla gente del calciatore Italo Marocchino arriva la smentita su un contatto per il suo assistito da parte del sodalizio Biancazzurro. Kedira è reduce da una stagione al Mantova in prestito dal Parma con nove reti all'attivo. Rientrerà nel club emiliano per poi essere girato ad un'altra società. Sempre secondo le dichiarazioni rilasciate dalla gente alcuni giorni fa, su Kedira, oltre che diversi club di Lega Pro, ve ne sono anche alcuni di Serie B come Portenone, Vicenza e Frosinone. Un giocatore che può fare al caso del Pescara e che certamente prenderebbe in considerazione l'ipotesi Biancazzurra. Circa la sua utilità nel progetto tecnico di Auteri va precisato, come detto già ieri, che nasce come centroavanti e quello è il suo ruolo principale, nel quale si esalta quando attacca la profondità e sfrutta la sua progressione. Da esterno è adattato, insomma, per un progetto che vuole essere subito vincente, che Kedira sembra più un'ottima alternativa che un potenziale titolare, per quanto un prospetto intrigante. In queste ore sono davvero tanti i profili offensivi accostati al Pescara, anche se non arrivano conferme dirette. Già ieri abbiamo parlato di Alessandro Marotta, in uscita dalla Juve Stabia, con cui ha un contratto fino al prossimo giugno, e Matteo Di Piazza, di proprietà del Catanzaro, anche lui fino a giugno 2022. Ora, su alcuni siti specializzati, ecco spuntare il nome di Michele Vano, visto in Abruzzo con le maglie di Canistro e Chieti in Serie D, gigante di oltre un metro e novanta, che nell'ultimo anno ha giocato in prestito a Mantua e Perugia, ma di proprietà del Verona. E poi Simone Corazza, centroavanti ma anche esterno, che ha un contratto fino al giugno 2023 con l'Alessandria, con cui ha vinto i play-off. Lo scorso campionato bomber implacabile nella regina che ha dominato il girone C. Insomma, uno abituato a vincere i campionati, ma solo se non rientrerà nei piani dei grigi in Serie B potrebbe andare via. Un vero e proprio waltzer dei bomber, insomma, anche se il mercato deve ancora realmente decollare con il DS Matteassi, che sta cercando di dare sostanza al mercato nell'attuale prima missione milanese. In tal senso arriva la conferma dal presidente Sebastiani, che nel pomeriggio è stato intervistato da Free Italia TV e ha dichiarato che fino a lunedì prossimo tutti i club saranno concentrati sull'iscrizione ai campionati. Poi si penserà al mercato e sempre la prossima settimana saranno presentati a Stampa e Città Gaetano Auteri e Luca Matteassi. Per il centrocampo, invece, il principale obiettivo sembra essere il trentenne di Montenero di Bisaccia ed ex celano Carlo Derisio, che Auteri ha già allenato a Catanzaro e Bari, un profilo ideale per il 3-4-3 del tecnico di Floridia, anche se a centrocampo restano da risolvere una serie di enigmi sulla permanenza o meno dei vari Bussellato e Valdifiori, oltre a quella di Meusciai. L'uscita di alcuni di questi potrebbe agevolare qualche entrata nel reparto.